I miei uomini hanno preso la reghere. Miller ha devastato l'assetto e i freni con la sua guida, ma non glieli addebitano. Che generosità! Vero? Ascolta, dobbiamo vederci. Come? Ora? Sì, ora. Vieni in centro, ci vediamo da me. Casino Elysium, sul retro. Sì, ora. 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 Sì. Sì, ora. Sì, ora. Sì. Sì, ora. Sì. Sì, ora. 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 Sì. Sì, ora. Sì. 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 Sì, ora. 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 Grazie a tutti. 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 quindi. a tutti. 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 a tutti.